Il bilancio di previsione... È stato approvato l'altra sera in Consiglio Comunale, dopo un'ampia discussione, il bilancio preventivo del 2023, uno strumento contabile che ha ridato alla Giunta la piena operatività. Pur contrastato dalle minoranze, che l'hanno definito una manovra pre-elettorale, contiene precise scelte, sia dal punto di vista contabile che politico, privilegiando i settori dei servizi sociali e quelli dei servizi educativi. A presentarlo è stata l'assessore alle finanze, Sara Cucchiarini, alla quale chiediamo subito se c'è da aspettarsi un aumento delle tasse e delle tariffe. Abbiamo fatto una scelta precisa in Giunta di rimanere e lasciare le aliquote di servizio domanda individuale, quindi menze, trasporto scolastico, tutti i centri diurni, alle tariffe invariate, senza applicare il tasso di inflazione programmata e significa una minore entrata di circa 150.000 euro in meno. Abbiamo fatto una scelta anche importante per quanto riguarda la Tari, perché abbiamo deciso di applicare un recupero di evasione a sostegno del pagamento del PEF Tari, un fondo di circa 550.000 euro. Le utenze domestiche rimangono sostanzialmente invariate, invece le utenze non domestiche siamo riusciti addirittura a diminuirle di un 1,5%. Un aumento delle esenzioni per quanto riguarda i servizi educativi per le famiglie. Questo significa per il Comune di Fano una minore entrata di oltre 100.000 euro. Queste sono precise scelte che vanno veramente incontro alle famiglie. Una delle novità di questo bilancio è l'ingresso del PNRR, che ha aumentato di molto il budget complessivo a disposizione dell'amministrazione comunale. Quali sono le novità a questo proposito? Un bilancio totale del Comune di Fano, che comunque è la certa città delle Marche, che si aggira intorno ai 200 milioni di euro, con un bilancio in conto capitale di circa 72 milioni di euro, dove appunto confluiscono tutti quegli investimenti e quelle opere del PNRR, che ricordiamo sono 46 per un totale di 47 milioni di euro, nei quali c'è anche un importante cofinanziamento del Comune. Questo significa un grandissimo lavoro da parte di tutti gli uffici comunali, perché, come sappiamo, queste risorse hanno delle scadenze molto vicine, dei step intermedi specifici e anche tutto un monitoraggio che deve essere fatto appunto delle varie fasi del percorso, dell'utilizzo appunto delle risorse e dei progetti. Nel bilancio ci sono anche delle novità dal punto di vista urbanistico? Come sappiamo c'è un'importante riduzione dell'edificabilità, che significa un minor gettito IMU per circa mezzo milione di euro per il Comune di Fano, e poi ci sono anche delle scelte specifiche su aree nostre che impattano significativamente sul nostro piano delle valorizzazioni comunali, con un diminuzione di valorizzazione di circa 20 milioni di euro per quanto riguarda appunto il valore delle nostre aree, quindi gli effetti in conto capitale. Di solito il bilancio veniva approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, quest'anno invece si è slittati nell'anno successivo, questo ha comportato dei problemi per la pubblica amministrazione? Problemi no, un lavoro diverso, è stata una scelta precisa votata in giunta, quella di attendere la stabilizzazione anche a livello nazionale del quadro dei costi dell'energia, e abbiamo così alla fine dello scorso anno messo in sicurezza le spese, anticipandole comunque le spese dei primi mesi dell'anno.